La gente, 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 la con il prossimo brano contenuto il nostro disca, che a dispetto delle apparenze è un brano molto elegante. Poco c'è pione, verde e marrone, dentro la mia città, metto sul fibro, leggo un bel libro, cerco un po' di relax. All'improvviso, senza previso, si sente un tipo, un fricchettone, forse drogato, suona e non smette più. Poco c'è un fruto, mi curva, perché suona di merda, non ha senso del libro, io non leggo più il libro, quasi quasi mi alco, ma va a chiedergli perché ha deciso che cazzo, il proprio oggi niente non vedrà. Piantata con i conti, non siamo mica in Africa, ho di capelli lunghi, ma devi fare pratica, sei sempre fuori tempo, con i conti dell'Africa, che avrà pure tanti problemi, ma di sicuro non quello del libro. Grazie. Grazie. Grazie.